Smart Delivery, le consegne di droga dalla Piana di Giaia Tauro a Sicilia e Campania, 11 arresti di cui uno al carcere di Cavadonna. È stato notificato il provvedimento della misura cautelare a Siracusa nel carcere di Cavadonna ad un esponente del gruppo malavidoso di soggetti originari di alcune comune della Piana di Giaia Tauro, coinvolto nell'operazione antidroga Smart Delivery. Le consegne di droga dalla Piana di Giaia Tauro a Sicilia e Campania, 11 arresti. L'uomo si trova nel carcere di Atusio dove sconta la pena del reato di traffico e detenzione di sostanze stufacenti riguardante altra operazione. Nella notte, nelle province del Reggio Calabria, Benevento, Vibbo, Valenza e Siracusa, i carabinieri del gruppo di Giaia Tauro, supportanti dallo squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno dato esecuzione a 11 misure cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Palmi, 9 in carcere e 2 a domiciliare, su richiesta della locale Procura della Repubblica, retta da Emanuele Crescenti, nei confronti di altrettanti indagati, ritenuti responsabili, tra l'altro, e a vario titolo, dei reati di produzione, traffico e detenzione illecite di sostanze stufacenti o psicotrope. L'operazione è il frutto di un'articolata attività investigativa svolta tra il mese di agosto 2020 e giugno 2022 e condotto dalla Compagnia Carabinieri di Giaia Tauro, finalizzata alla individuazione di un gruppo di soggetti originari di alcune comuni della Piana, i quali, utilizzando un sistema rodato e ben collaudato, si occupavano di gestire in varie località lo spaccio di sostanze stufacenti, principalmente cocaina, marijuana e crack.